i pop tv pass lo spazio riservato ai nuovi talenti tutti i giorni quattro appuntamenti con il meglio della musica emergente italiana vuoi proporti posta il tuo video su facebook.com slash i pop tv italy ed entra per una settimana in alta rotazione sul canale i pop tv pass la musica nuova suona sui pop tv giusto per fare del pagliaccismo gratuito come si parlava fuori onda e questo è l'album di fritz quello è fritz questo ragazzo che sto indicando adesso questo è l'album e non è difficile da cioè da ricordare perché comunque fritz the cat io sono uno un po sono stato fermo tantissimo sto fermo proprio che non ho toccato io in prima persona le macchine per dieci anni o anche un po di più perché onestamente non c'avevo voglia proprio non sentivo lo stimolo ascoltato un sacco di musica però ho lavorato duro ad altre cose e la musica io in prima persona accanto l'ho accanto l'ho messa in pausa non c'avevo proprio voglia e a questo prodotto invece c'è lavorato comunque un annetto e mezzo due un annetto e mezzo due si perché in realtà ho registrato molta più roba e poi questa è un po la scrematura di quello che ho setacciato sarà con noi tutta la settimana non vi perdete anche le repliche perché magari vi perdete la puntata di oggi ma c'è la replica due ore dopo mi raccomando state con noi vogliateci del gran bene sia a me che al mio amico fritz questa è la raga domani il pop tv solo su sky canale 720 è 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